allora come sempre buonasera a tutti e grazie per la partecipazione e io andrei a iniziare il nostro incontro anzitutto con la presentazione di chi è federico che poi no sarà federico agostinelli questa sera che ci andrà a parlare di uno dei massimi pensatori della storia della filosofia che ludwig bichtenstein e questo perché perché io e federico oltre a essere amici in sostanza perché questo poi rimane abbiamo sviluppato anche due strade differenti all'interno della storia del pensiero la mia ormai la conoscete quindi riguarda più l'ambito sociale storico invece invece la filosofia di cui si occupa federico un'altra diramazione della storia del pensiero ce ne sono anche altri ed è quella che poi si è intrecciata con il suo con il suo percorso di studi quindi vado a dire due parole su di lui vado a dire anzitutto che inizialmente aveva in intrapreso gli studi in ingegneria soprattutto nel campo informatico poi ha preso il fatto insomma che effettivamente l'interesse per questo settore non non collimava con le risposte invece che si possono ricercare all'interno della filosofia ha deciso di intraprendere anche lui il percorso di filosofia con una triannale a urbino seguita poi da una laurea magistrale e adesso in questo momento sta frequentando un master sempre in erente campo filosofico un master a lugano in svizzera e si è interessato soprattutto di di logica di filosofia della mente di filosofia della scienza e quindi di tutto quel settore che va ad analizzare le nostre conoscenze in correlazione anche a campi come la fisica la matematica perciò ecco questo anche un po per per capirci e anche un po per intendere il il filosofo che adesso federico ci andrà a spiegare pertanto è quel settore appunto di filosofia che si occupa in particolare di logica questo è quello che dobbiamo avere a mente per chi conosce per chi non conoscesse questa diramazione perciò non il settore invece che tratta della storia o della sociologia per dirne uno bene detto questo e adesso vado a fare una piccola piccolissima introduzione prima di lasciare la parola a federico un'introduzione appunto da potremmo definire storica di quello che è stato il circolo di vienna allora anzitutto diciamo questo diciamo che il circolo di vienna si sviluppa in un periodo storico che tendenzialmente è caldo perché di fatto viene fondato da mori schlix nel 1922 e quindi siamo a ridosso della fine della prima guerra mondiale e vedrà la sua brusca fine in realtà proprio nel 1936 con l'avvento del nazismo in maniera poi forte e con l'uccisione anche del suo fondatore questo per quel che riguarda appunto la la nascita e la fine proprio cronologica storica del circolo di vienna ma questa questa cerchia di pensatori di che cosa si occupa ecco di fatto si occupa di andare a analizzare la realtà su in in risposta e a problemi di antica origine di antica data diciamo anzitutto che la filosofia che si sviluppa all'interno del circolo di vienna che vede presenti personalità come carna per noi rat per dirne alcuni altri ospite d'occasione saranno per esempio reichenbach o quine si occupa e si basa su quella visione che è definita in filosofia neopositivismo logico che significa che lo studio della realtà è affidata a che è affidato a che cosa anzitutto alla conoscenza dei dati che ci vengono proposti e quindi da qui da qui la matrice empirista del problema ma non si risolve nel puro nella pura analisi dei fatti nel nella pura analisi della materia e questo perché perché questo era già l'errore con contenuto in parte nel positivismo invece il positivismo studiava ciò che era positum cioè ciò che era dato dall'etimologia latina ecco il neopositivismo logico fa un passo avanti in questo senso e si occupa anche di studiare le strutture del linguaggio studiando quindi la struttura del linguaggio e come il linguaggio e gli errori anche contenuti nel linguaggio stesso servono a diciamo a studiare a comprendere la realtà così soltanto potremo arrivare con l'analisi appunto del linguaggio stesso anche alla formazione di modelli scientifici efficaci di fatto probabilmente dicono eh coloro che appartengono al circolo di Vienna che i problemi storici della filosofia quindi i problemi di antica data addirittura che possono risalire alla filosofia antica la filosofia di Parmene di Zenone a seguire di Platone Aristotele e così via non sono altro che problemi che derivano dal linguaggio e dal dalla cattiva applicazione o dalla non applicazione di modelli poi scientifici detto questo eh aggiungo una piccola cosa e poi lascio la parola a Federico diciamo che tutta la posizione del circolo di Vienna sarà una posizione verificazionista cioè ci sarà la necessità di verificare se un determinato assunto poi si ripresenta a maniera costante nella realtà e quindi che cosa significa che andranno ad applicare per certi aspetti non nella loro totalità il modello eh il modello scientifico e sperimentale di Galileo ma la posizione di alcuni pensatori che non prenderanno poi mai parte al al circolo di Vienna pur 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 essendo molto interessati del del dibattito che si sviluppò al suo interno cioè sto parlando in particolare di Popper e di Wittgenstein avranno posizioni eh un po' eh sui generis cioè posizioni particolari di cui adesso eh Federico vi andrà a parlare dico questo e mi taccio eh uno dei testi infatti più più studiati più analizzati all'interno del circolo di Vienna sarà proprio il tractatus logico filosofico di Wittgenstein e nonostante questo Wittgenstein non prenderà parte alla discussione all'interno del circolo di Vienna e proporrà una sua visione eh una sua interpretazione in chiave filosofica naturalmente di che cosa sia la conoscenza e come è possibile affrontare la conoscenza umana in maniera efficace Federico detto questo ti do la parola e e buona spiegazione e grazie grazie mille Nico per l'introduzione allora intanto condivido questo eccoci qua allora buonasera a tutti e allora ho diciamo questo compito di parlare di Ludwig Wittgenstein è un filosofo che è stato veramente analizzato è stato l'esegesi dei testi sono ancora è ancora in atto e è durata per tutto il novecento ancora oggi ci sono eh diciamo ricerche su su come interpretare delle parti della filosofia di Wittgenstein su quello che è appunto il il suo portato filosofico e ehm in generale l'interpretazione non è non è facile per per alcune ragioni e in primo luogo Wittgenstein pubblicherà effettivamente perché poi in realtà lui avrà avrà mostrerà volontà di pubblicare anche altre cose ma poi ci ripensa ma l'unica pubblicazione che fa Wittgenstein è proprio quella del Tractatus la seconda pubblicazione sempre di i lavori di Wittgenstein che sono le ricerche filosofiche avviene però quando Wittgenstein era già morto nel mil novecentocinquantatré lui muore nel cinquantuno e quindi diciamo le pubblicazioni in vita sono effettivamente soltanto una malgrado ciò Wittgenstein scriverà tantissimo perché Wittgenstein come vedremo sarà un filosofo che ragionava scrivendo scriveva ragionando quindi abbiamo una una enorme quantità più di ottocentomila pagine di scritti che eh fra l'altro vengono anche costruiti un pochettino in maniera eh in alcuni punti quasi confusionaria perché lui piaceva eh tagliare alcune parti incollarle poi dopo dettarne alcune poi ritornava su problemi che sembrava fossero già stati risolti da lui stesso in scritti precedenti al punto tale che qualcuno infatti leggendo questi questi testi ma qua in questo in teoria ne aveva già parlato di questa cosa l'aveva già risolto sarebbe perché era il suo modo di fare filosofia e per questo che appunto diciamo per quello che voglio offrirvi oggi è una visione diciamo globale del filosofo e del suo pensiero perché entrare proprio nei particolari richiede un lavoro veramente veramente lungo e pertanto l'idea che ho avuto è di strutturare così la presentazione. Introduciamo intanto storicamente diciamo il filosofo perché eh qui ho riportato alcune date chiavi ecco naturalmente alcune mancano altre l'ho ritenute diciamo non non proprio così importanti e quindi ho cercato di dare una visione generale di quella che è stata la vita del filosofo che credo che già offra un pochettino una così un'immagine di quanto poteva essere complessa la figura di Wittgenstein. Allora Wittgenstein nasce nel 1989 da una famiglia eh molto benestante il padre era un industriale ma benestante non soltanto a livello diciamo economico ma proprio anche a livello culturale avevano ehm avevano agganci con i maggiori eh artisti dell'epoca nasce a Vienna eh conoscevano Brahms la la addirittura Clint fece un quadro per la sorella e quindi diciamo il fermento culturale all'interno della della famiglia era era veramente era veramente forte. La famiglia era una famiglia numerosa come quella appunto dell'epoca eh Wittgenstein aveva aveva sette fratelli quindi una famiglia otto fratelli e la maggior parte anche di tutti di questi fratelli ebbero una vita particolare molti anche anche tragica addirittura due si suicidarono uno uno scomparve che fra l'altro era un musicista scomparve da un giorno all'altro non se ne seppe più niente e quindi fu una famiglia diciamo abbastanza particolare. Wittgenstein ehm fra l'altro decide di non seguire quella che era la volontà del padre ovvero in queste famiglie culturalmente economicamente avanzate di solito i i figli venivano affidati a un tutor che gli faceva proprio da professore. Wittgenstein decide di eh iscriversi in un'università questa volta però la spinta diciamo della scelta è sotto l'influenza paterna e si iscrive ad ingegneria e diventa addirittura un eh progettista aeronautico un research student come come si direbbe per il dipartimento di Manchester. Ho inserito questo fatto perché è abbastanza importante in quanto ehm diciamo l'amore la passione di Wittgenstein per quello che appunto la matematica teoretica e eh la fisica nasce dal fatto che non riusciva a trovare una soluzione a un progetto di un motore per un aereo che voleva che effettivamente stava eh progettando cioè lui stesso scrive in alcune in alcune sue lettere o a dei colleghi che eh la ricerca di questa soluzione lo metteva in crisi perché si rendeva conto che doveva approfondire quella che erano i fondamenti proprio della matematica e della logica e nel far questo a modo di diciamo incontrare nel 1911 Frege la Iena Frege che aveva già scritto diciamo i fondamenti dell'aritmetica era comunque un logico Frege stesso che poi gli consiglierà invece di eh recarsi da Russell a Cambridge e a Russell a che ehm a che con Russell a Cambridge instaurerà un rapporto molto molto profondo eh un rapporto che porterà addirittura a Russell diciamo pochi anni dopo a scrivere che Wittgenstein era uno dei pochi studenti che era riuscito a comprendere e eh ad analizzare ma in maniera critica perché Wittgenstein fu veramente critico nei confronti anche della filosofia di eh Russell quelli che erano i principi a matematica di eh Russell scritte con Whitehead un grandissimo matematico eh dell'epoca e e addirittura aveva in mente Russell di dare a Wittgenstein l'opportunità di revisionare alcuni capitoli di principi a matematica stessi e forse Wittgenstein sarebbe potuto essere addirittura un successore di Russell naturalmente le cose andarono come al solito in maniera un pochettino diversa infatti lui viene viene ammesso al Trinity College però interrompe gli studi per partecipare come volontario alla prima guerra mondiale e il percorso diciamo la vita all'interno della guerra mondiale lo porta sia sul fronte orientale dell'auta come naturalmente l'egersito austriaco che eh sul fronte italiano addirittura verrà fatto prigioniero e ehm questo è un periodo particolare per per Wittgenstein è un periodo dove effettivamente oltre alla logica alla matematica viene a contatto con quella che è la parte più eh diciamo morale etica dell'uomo vive la guerra la vive e questo influenzerà la sua filosofia e ritornando ritornando aveva già pronto diciamo quei un il suo il suo testo principale che era il che sarà il Trattatus Logico eh filosofico non ritorna direttamente a Cambridge ma prima eh diviene maestro all'elementari in Austria e eh farà pubblicare questo Trattatus Logico filosofico dopo un diciamo un itinerario un pochettino roccambolesco perché all'epoca trovare un editore per appunto una figura come Wittgenstein che era in realtà soltanto uno studente perché a Cambridge ancora non aveva finito il percorso di studi era complicato Russell lo aiuterà farà un'introduzione al Trattatus Logico Russell dopodiché Wittgenstein in un futuro dirà che Russell effettivamente non ci ha capito molto di questo Trattatus però ehm questa è la realtà dei fatti e eh questo Trattatus Logico sarà appunto eh il cuore della filosofia di Wittgenstein il cuore dove che sul quale Wittgenstein ritornerà ritornerà in futuro infatti riprenderà gli studi al Trattatus College come Advanced Student quindi era già uno perché era già stato effettivamente uno eh studente nel mentre continuerà sempre a scrivere ecco non è che ha pubblicato il Trattatus Logico che poi vedremo appunto di cosa parla lui interrompe qui anzi eh continua a scrivere quelle che sono chiamate le osservazioni filosofiche da cui poi nasceranno due eh due libri che sono stati soltanto dettati ai suoi studenti quando appunto inizierà a tenere i corsi a Cambridge invece come professore che sono il The Blue Book e The Brown Book. In questi due libri già c'è parte del pensiero successivo ecco e eh un pensiero che poi lo porterà allo sviluppo delle ricerche filosofiche e quello che di solito si dice che c'è proprio un cambio di paradigma fra quella che era la filosofia del Trattatus che come Nico eh già come Nicola ha già detto prima eh è una filosofia che era stata presa dagli a dall'ambiente neopositivista del circolo di Vienna quindi già possiamo capire che genere di filosofia fosse e eh una quindi basata naturalmente sulla logica sullo studio della logica del linguaggio una filosofia più qualcuno direbbe aperta a quella che erano invece eh i presupposti della classica filosofia eh continentale vedremo che anche così anche qui però le le affermazioni andrebbero un pochettino ridimensionate e questa seconda parte della filosofia eh ne è proprio il il paradigma è quello delle ricerche eh filosofiche e mh ho aggiunto alcune anche altre date che ritengo importanti come il fatto che nel mille perché c'è qualcuno che effettivamente vorrebbe o almeno ha sostenuto in passato che il Trattatus e le ricerche sono due filosofie differenti e quindi ci sarebbe il classico primo Wittkestein con la filosofia logica del Trattatus una filosofia filo neopositivista e un secondo Wittkestein con la filosofia invece delle ricerche che è da un'interpretazione del linguaggio in maniera completamente diversa che dovrebbe far parte del del ramo più continentale ecco io ho voluto inserire come data il 1943 perché in questa data Wittkestein rivedendo il Trattatus addirittura pensava di pubblicarlo quindi quando già era nel pieno della filosofia delle ricerche non ha di pubblicare di nuovo il Trattatus insieme alle ricerche e presupponendo il fatto che l'analisi del Trattatus e la critica al Trattatus stesso diciamo fossero fondamentali per poi capire le ricerche ecco questo per dare una sensazione di quanti in realtà erano eh i due testi sono più legati di quello che uno potrebbe pensare e nella parte finale della sua vita invece eh Wittkestein continuerà sempre a filosofare eh addirittura scriverà qualcosa di filosofia della psicologia pochi giorni prima della sua morte e eh in questa parte appunto lui si dedica alla filosofia eh della psicologia e come sempre però come parte integrante di quello che invece il suo progetto generale che si trova appunto espresso nelle ricerche mora Cambridge nel cinquantuno e eh sappia e la pubblicazione del Trattatus sì del Trattatus delle ricerche filosofica verrà nel cinquantatré e quindi c'è stata già una rielaborazione postuma dei suoi manoscritti ecco e questo per chi fa un'analisi appunto esegetica dei dei lavori di un filosofo va sempre tenuto sotto considerazione ecco le opere postume spesso eh richiedono delle elaborazioni che potrebbero uscire anche un pochettino dalle volontà del filosofo stesso e con questo che dico bisogna portare appunto attenzione e eh detto ciò eh detto ciò bisogna capire bene cosa di cosa parla la filosofia di Wittgenstein di cosa cosa di cosa parla Wittgenstein e naturalmente è necessario partire appunto dal Trattatus ehm io ho riportato qua adesso sposto un attimo qua gli schermi che c'ho di lato se no non riesco ecco a leggere ho riportato qua alcuni mh frammenti questi frammenti non sono presi dall'introduzione che farasse al Trattatus ma della prefazione che scrive lo stesso Wittgenstein e penso che sia abbastanza che offra proprio la visione generale di quello che di quello di cui parla il suo il suo libro e per questo ne vorrei leggere alcune eh alcune parti e poi magari commentarla appunto per darvi un po' una sensazione diciamo della filosofia di Wittgenstein. Allora il Trattatus il libro scrive Wittgenstein tratta di problemi filosofici e mostra credo che la formulazione di questi problemi si fonda sul fraintendimento della logica del nostro linguaggio. Tutto il senso del libro si potrebbe riassumere nelle parole. Quanto può dirsi si può dire chiaro e ciò di cui non si può parlare beh su questo si deve tacere e quindi già nella prima parte della prefazione mettiamo subito in chiaro di cosa parlerà il libro e quali sono i problemi. Il problema fondamentale è un problema del linguaggio è un problema che è della logica del linguaggio quindi è un problema logico. E andando avanti il libro vuole dunque tracciare al pensiero un limite o piuttosto non al pensiero ma all'espressione dei pensieri. Il limite potrà dunque essere tracciato solo nel linguaggio e ciò che oltre il limite non sarà che non senso. La verità dei pensieri più comunicati mi sembra intangibile e definitiva. Ora naturalmente il limite che si vuole tracciare è quello del linguaggio perché con il linguaggio che noi esprimiamo i pensieri ma che esprimiamo i nostri pensieri ma vedremo anche come questi pensieri secondo Wittgenstein in realtà sono particolarmente legati per certi punti di vista alla realtà del mondo a cos'è il mondo ma dobbiamo sempre appunto porre un'analisi critica al linguaggio perché se andiamo diciamo oltre quello che è il limite del linguaggio in realtà il linguaggio diventa un puro non senso che attenzione questo punto fondamentale su cui ritornerò dire non senso non significa dire che il linguaggio è falso cioè che quello che affermo è falso questo sarà importante poi per tutta la discussione riguardo la morale l'etica e tutte quelle che sono diciamo le classiche domande che potremmo dire anche metafisiche ecco dire non senso non significa che sono cose false ovviamente nemmeno che sono vere sono dunque dell'avviso d'anno avanti da aver definitivamente risolto nell'essenziale i problemi e anche per questo per cui ho risolti i problemi e quindi Wittgenstein dopo il Tractatus appunto effettivamente si prende una pausa e va a insegnare come già detto come studiente elementare in cui continuerà a pensare a valutare anche altri aspetti della vita soprattutto quelli vissuti durante la prima guerra mondiale ma comunque l'idea che ha Wittgenstein è che effettivamente lui ha risolto quelli che sono i problemi filosofici e si accorgerà in futuro successivamente quasi subito dopo anzi che non è proprio così la situazione è un pochettino diversa un po più complesso e infatti poi aggiunge se qui non erro il valore di questo consista allora in secondo luogo nel mostrare quanto poco si sia fatto dall'essere questi problemi risolti e quindi naturalmente cioè se lui li ha risolti i problemi significa che effettivamente chi prima pensava di averli risolti in realtà è girato piuttosto attorno quello che voglio fra l'altro mostrarvi è la struttura del Tractatus allora il Tractatus è una struttura particolare risposto un attimo di lato ok la struttura del Tractatus è una struttura particolare perché perché in realtà per quanto appunto sembra dalla prefazione un libro che deve parlare effettivamente di una cosa di tutto e quindi chissà quanto sarà esteso questo in realtà è un testo di poche decine di pagine appunto perché l'impostazione di Wittgenstein in queste scritture diciamo in questo test è molto analitica lui procede attraverla il test è diviso in sette proposizioni principali in realtà sarebbe meglio chiamarle affermazioni poi vedremo anche il perché perché per Wittgenstein la proposizione ha un senso particolare ognuna di queste proposizioni quindi la 1 2 3 4 5 la 6 la 7 ha sotto dei commenti a ogni singola proposizione quindi c'è la 1 la 1.1 poi c'è anche il commento della 1.1 quindi troviamo sotto il commento 1.1.2 oppure un commento direttamente alla 1 sotto al commento della 1.2 1.1.1 e così via così per tutte queste queste proposizioni e attraverso questi commenti Wittgenstein disvela appunto quello che il suo pensiero filosofico in poche parole e i commenti sembrano un po suonare quasi come come delle massime ecco non non c'è un'argomentazione intesa nel senso classico della filosofia ovvero la classica argomentazione che richiede magari pagine pagine no sono sentenze e vediamo un po cosa dice appunto in questo tractatus allora le leggiamo perché intanto come potete vedere non è che ha scritto tantissimo il mondo è tutto ciò che accade ciò che accade il fatto quindi è il sussistere di stati di cose quindi già la seconda proposizione ti dice che il mondo è una totalità di fatti perché la prima dice il mondo è tutto ciò che accade il secondo ciò che accade il fatto quindi è il fatto cos'è però a sua volta un sussistere di uno stato di cose l'immagine logica dei fatti è proprio il pensiero il pensiero è la proposizione munita di senso e vedremo appunto cosa significa per una proposizione essere munita di senso la proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari e qui si rientra un pochettino all'interno appunto di quella che è la vera propria logica e ci si richiama anche un po a quelle che erano le proposizioni elementari intesi alla frega in maniera diversa in maniera diversa però c'è un richiamo appunto a quella che è la struttura logica in quindi interna della proposizione la forma generale delle funzioni di verità è sigma p n sigma questa è la forma generale della proposizione e su questo ci soffermeremo veramente molto velocemente se avremmo proprio tempo perché in realtà quasi va un pochettino più nella parte più sofisticata ecco della logica interna al tractatus che potrebbe essere un diciamo un po forviante nel momento in cui vogliamo vorrei offrire una visione generale ok e infine concluse su ciò di cui non si può parlare si deve tacere quindi c'è un richiamo proprio a quello che era scritto nella nella prefazione ora naturalmente le prime quattro proposizioni le possiamo analizzare subito insieme e si può capire che già nelle prime tre in realtà Wittgenstein fa quella che viene definita in filosofia un'ontologia parla di cosa c'è nel mondo ricordiamoci anche che Wittgenstein parla di fatti del mondo non di singole cose anche perché sta naturalmente avendo studiato ingegneria studiando matematica fisica eccetera è stato anche influenzato da quelle che erano un po le rivoluzioni della fisica 1905 1915 tanto per fare un esempio quindi la teoria della relatività ristretta teoria della relatività generale dove appunto c'era questa idea detta in maniera molto grossolana della della realtà come diciamo del mondo come un facente parte non di uno spazio in tempo separati ma da di una struttura quadridimensionale di spazio tempo insieme dove quel ogni punto all'interno di questa struttura non è appunto un oggetto ma è un evento e quindi il mondo e tutto ciò che accade sono i fatti che non i singoli oggetti in questa in questa ontologia che ruolo ha appunto il pensiero beh per Wittgenstein esiste un un isomorfismo proprio strutturale fra quella che è la struttura della realtà la struttura del nostro pensiero e la struttura del linguaggio quindi abbiamo queste queste tre strutture ok che sono isomorfe significa che è come se fossero in come gli enti matematici che sono in corrispondenza ok in corrispondenza bionicoca c'è un parallelismo fra queste strutture e sono in tre e quindi la struttura della realtà viene è l'immagine logica appunto della struttura della realtà è il nostro pensiero ok ma la struttura del pensiero si ripropone nella struttura della proposizione munita di senso quindi il quindi questo cosa ne risulta che se io studio la struttura del linguaggio io studio anche la struttura della realtà perché consiste perché appunto sussiste questo questo isomorfismo e lui fra l'altro diciamo scrive che quando noi parliamo appunto parliamo del mondo parliamo appunto di stati di cose ma uno stato di cose appunto è un fatto della realtà quindi le nostre proposizioni le nostre quelle che sono le proposizioni per widgestein parlano della realtà come se fossero delle immagini della realtà immaginiamo c'è punto proprio una fotografia nella fotografia noi abbiamo una immagine la fotografia non è altro che un'immagine della realtà ma gli elementi all'interno della fotografia che appunto nel linguaggio potrebbero essere delle parti più semplici del linguaggio mantengono quelli che sono i rapporti delle parti nella realtà ok vorrei essere chiaro su questo cioè noi quando guardiamo una fotografia la cap la comprendiamo senza bisogno che ci abbiamo una spiegazione perché quello che sono i rapporti degli oggetti della realtà vengono mantenuti all'interno di questa immagine della realtà e così fa anche il linguaggio quindi è la struttura della realtà corrisponde alla struttura logica del linguaggio stesso quindi se io studio la logica studio anche del linguaggio studio anche la struttura della della realtà quindi ad oggetti semplici per vidgestan ad oggetti semplici della realtà perché gli stati di cose sono non sono altro che dei nessi fra oggetti semplici sono dei nessi fra oggetti semplici degli stati di cose con corrispondono diciamo da un punto di vista linguistico dei nessi all'interno del nostro linguaggio e questi stati di cose sono composti a loro volta da oggetti semplici gli oggetti semplici per vidgestan attenzione spesso viene fatto l'esempio dell'occhiale l'occhiale è un oggetto semplice l'oggetto l'occhiale sulla mia faccia è un oggetto semplice che ha una relazione con per esempio appunto uno un nesso con un altro oggetto che potrebbe essere il mio naso però in realtà per vidgestan diciamo che questa è un'interpretazione della filosofia di vidgestan del tractatus però per vidgestan in realtà gli oggetti semplici non possono essere definite su questo lui ritornerà anche in futuro non possono essere definiti così perché perché se io da una definizione filosofica a diciamo cos'è un oggetto semplice in realtà sto facendo una filosofia che non è più come vorrebbe vidgestan una critica e una diciamo analisi del linguaggio io sto facendo una vera e propria metafisica cioè io sto definendo quell'oggetto come l'oggetto più semplice che c'è natura ma per vidgestan non funziona così per vidgestan la vera scienza che parla del mondo è quella che riesce a spiegare attraverso appunto delle delle forme logiche matematiche la realtà e qual è la scienza la scienza è quella proprio la scienza naturale sono le scienze della fisica sono le scienze matematiche sono proprio le scienze naturali la filosofia per vidgestan non è una scienza per vidgestan del trattatus la filosofia più una è un'attività critica ok e quindi in questo contesto se vidgestan effettivamente definisse come oggetto semplice un oggetto tipo una sedia lui andrebbe oltre a quella che è la stessa sua filosofia e si ritroverebbe proprio a parlare oltre i limiti che lui stesso voleva voleva cercare del linguaggio quindi non può farlo ma gli oggetti semplici per vidgestan devono esistere perché perché se c'è questo isomorfismo di struttura fra linguaggio e realtà è allora il mio linguaggio deve essere determinato in qualche modo e perché esso sia determinato questi oggetti devono esistere perché se non esistessero non sarebbe determinato quindi diciamo che la giustificazione di vidgestan e sulla quale appunto lui tornerà criticando il trattatus è che in realtà la l'esistenza di questi oggetti semplici che in un futuro la scienza ci disvelerà in realtà è un'esistenza data da diciamo a priori dal dal fatto che effettivamente il linguaggio è determinato e quindi ci devono essere questi oggetti naturalmente quando è che un una proposizione vera e quando una proposizione falsa diciamo fatto questo bene breve panorama beh è vera se il fatto sussiste è falsa se il fatto non sussiste anche questo porterà delle complicazioni perché naturalmente dire che è vera se un fatto sussiste è vera che è un fatto non sussiste cosa significa significa che ci deve essere una possibilità della sussistenza dei fatti cioè sembra quasi che queste proposizioni sono più quasi non fatti veri ma come possibilità di esistenza di questi fatti perché naturalmente se quello che dico è vero e il fatto sussiste allora c'è una verità diciamo intrinseca al fatto ok beh in generale anche su questa idea ritornerà quello che è chiaro però è che come vediamo è il senso di una proposizione è il senso di una proposizione se la proposizione è un'immagine dei fatti è la proposizione ha senso se io effettivamente se diciamo che che questi fa che questi fatti rappresentano una situazione che potrebbe essere che potrebbe essere vera o è falsa si rappresentano fatti delle proposizioni che potrebbe essere falsa ovviamente la realtà è una realtà che è data cioè non è non c'è necessità non c'è una vera diciamo necessità nella realtà c'è semplicemente la la necessità deriva dal linguaggio quindi proposizioni sempre vere in realtà che quelle che noi chiamiamo anche tautologio sempre false non sono vere proposizioni per vidge stein attenzione perché perché implicherebbero il fatto che nella realtà esiste qualcosa che è sempre vero o che è sempre una situazione o che sempre falsa ma questo non è possibile e quindi le pro le tautologie e le contraddizioni sono diciamo delle delle fanno parte del linguaggio logico stesso e linguaggio logico stesso per vidge stein non si può descrivere ma si può soltanto mostrare cioè come se queste queste proposizioni particolari dessero il senso un senso della una fu un'immagine particolare della logica della logica stessa cosa vuol dire che la proposizione punto 5 una funzione di verità delle proposizioni elementari come dicevamo ci sono degli oggetti elementari e ci devono essere anche delle proposizioni elementari perché sennò l'isografismo non c'è per quegli oggetti infatti volendo analizzare proprio in maniera diciamo con con il bisturi quello che dice vidge stein le proposizioni elementari sono le uniche in realtà che si riferiscono a degli stati di cose appunto semplici elementari ok e queste proposizioni elementari vengono utilizzate nel linguaggio per comporre come gli atomi e diciamo molecole più piccole nella biologia vengono utilizzate per dai biologi per definire magari dei chimici per definire dei composti più più larghi più strutturati più vasti queste proposizioni elementari messe diciamo insieme vanno a definire quelle che sono le proposizioni composte quindi in realtà vidge stein dice beh io per capire se è una proposizione vero no io basta che guardo la verità delle proposizioni elementari che la compongono se queste diciamo collegate insieme da dei particolari connettivi sulla quale adesso non mi soffermo danno che la proposizione nel complesso è vera la proposizione vera appunto quindi io le posso è come se potessi scomporre la proposizione naturalmente abbiamo già visto che c'è un problema qui sul quale appunto sarà un punto debole del tractatus questo nella definizione dell'oggetto elementare perché se l'oggetto elementare tu lo definisci diciamo a posteriori nel senso io adesso non posso definire a scienza prima o poi ci dirà cos'è l'oggetto elementare della realtà allora io allora la proposizione elementare che rispecchia uno stato di cose preciso io è difficile che la definisco infatti se noi pensiamo a socrate corre come proposizione elementare e pensiamo a socrate sta in piedi come proposizione elementare ok beh queste due proposizioni se le prendiamo è vera uno è vera l'altra ma fra proposizioni elementari visto che rispecchiano degli stati di cose elementari e non ci può essere il fatto che una è vera e una è falsa perché significherebbe che uno stato di cose elementari è vero uno stato di cose è falso però appunto dalla teoria stessa del suo tractatus non è così andiamo sopra sediamo diciamo sulla 6 in particolare la 6 diciamo in generale sancisce come deve essere considerata la forma generica della della proposizione ecco quindi quello che vid che sta in sta facendo nel tractatus è appunto vedere e spiegare come il mondo sia composto da fatti e il nostro pensiero a un'immagine di questi fatti che un'immagine che lui definirebbe logica pura e questa immagine logica pura viene poi strutturata nel linguaggio studiando il linguaggio comprendiamo anche le strutture della realtà ma l'unica diciamo l'unico linguaggio che in realtà ci parla solamente delle strutture della realtà è quello della scienza quindi la filosofia non è una scienza può porre una critica a quelle che sono appunto gli errori diciamo gli usi fuori dalla logica del linguaggio e quindi risolvere appunto diciamo i problemi della metafisica dell'etica tutti questi problemi che vengono ridotti a un non senso per il semplice fatto che non esistono i fatti di cui questi problemi queste diciamo l'etica per esempio parla x è buono x è cattivo ma cos'è il fatto di essere buono cioè non c'è un fatto di essere buono anche questo essere buono essere cattivo è un nostro giudizio ok che può anche essere diverso non abbiamo una vera struttura che ci dice ok questa è la struttura logica del che che mi fa dipendere l'essere buono da x non esiste quindi il linguaggio in realtà di queste cose se ne parla ne parla ma senza avere un significato perché come abbiamo visto il significato di significato del linguaggio è appunto la preposizione la proposizione che è legata ai ai fatti della realtà grazie a questa isoforfismo strutturale quindi l'etica la metafisica e così via non sono come dicevo prima sbagliate perché dire che una proposizione è falsa segna che io ho in mente un fatto che non un fatto diverso da quello che dice la mia stessa proposizione ma io non posso avere in mente un fatto diverso dal diciamo da proposizioni metafisico cose del genere quindi non posso nemmeno dire che sono false sono semplicemente dei non sensi e così lui diciamo getta via tutti questi quelli che erano i problemi metafisici ed è per questo che poi dopo conclude sancendo su ciò di cui non si può parlare si deve tacere in realtà questa ultima frase è stata interpretata veramente in mille mille modi diversi ora ecco prima di andare avanti vorrei un attimo sottolineare vediamo anche il tempo i problemi che ha questo tractatus allora molti dicono c'è quest'aneddoto carino che non so in realtà se sia vero però l'ho sentito dire da tante volte che in realtà vid che semplicemente si accorge che di alcune cose nel trattatus non c'è non aveva parlato e anzi di queste cose queste cose andavano oltre quella che era la sua definizione di proposizione di verità eccetera queste cose sono per esempio gli ordini come parti del linguaggio sono per esempio i gesti e l'aneddoto sta proprio nel fatto che si dice che vid che sta in passeggiata con un economista italiano e l'economista italiano gli dice ma visto che a ogni cosa del linguaggio corrisponde un fatto ma questo gesto qui gli fa il gesto dell'ombrello e dice questo a che fatto corrisponde vid che sta in a ok questo non è un attimo però a prescindere da questo diciamo da questo gioco in realtà in realtà i problemi del tractatus sono molti e sono molto più sottili prima di tutto il tractatus viene analizzato da un matematico rams è molto diciamo molto ferrato in campo di logica e a livello proprio logico ci sono dei grossi problemi ma oltre a questo il tractatus ha un problema stesso che viene risolto dai vid che sta in un primo momento con proprio la frase che ho utilizzato anzi simile alla frase che utilizzato come introduzione a questa presentazione ovvero su tutto ciò che non ovvero eh la scala non che una volta con cui siamo saliti bisognerebbe gettare beh noi cosa vediamo vediamo che effettivamente e qui ritorno al fatto del queste sette sono sono diciamo da vedere come affermazioni e non proprio proposizioni che se queste sette le consideriamo proposizioni ma queste sette non rientrano più nei canoni della proposizione che vid che sta in stessa aveva definito quindi in realtà vid che sta in sta parlando al già al di fuori dei limiti del del linguaggio cioè che che fatto è il la proposizione funzione verità delle proposizioni elementari c'è un fatto della realtà che questo a prima vista si direbbe di no l'immagine della logica dei fatti è il pensiero vero o falso no non c'è se dipende da un fatto della realtà attenzione noi non abbiamo la visione non abbiamo la visione di questo fatto e quindi in realtà vid che sta in si accorge ma già scrivendo il tractatus che appunto che questa esposizione che lui fa deve essere usata come una scala no come uno strumento sulla quale uno usa per salire e poi dopo lo gettiamo perché abbiamo compreso il senso generale abbiamo capreso che anche quelle cose che stavamo utilizzando in realtà erano utili soltanto perché appunto ci servivano per qualcos'altro ma in sé erano molto problematiche ora se il problema fosse così l'avrebbe già risolto nel tractatus dicendo gettiamole poi abbiamo visto che fino al 1943 vid che sta invece il tractatus lo usa sempre quindi in realtà è meglio non gettarla sta scala cioè lui continua a rielaborare perché la situazione è molto più complessa è molto più complessa perché vid che sta in realtà non è mai non è soddisfatto del fatto che partendo proprio dal concetto di oggetto elementare e proposizione semplice elementare lui sta affidando alla scienza a posteriori cioè in un futuro sta cosa verrà determinata vera ma questo affidamento in realtà non fa altro che porre le basi di una di un'intera teoria e che è una teoria filosofica che però vorrebbe avere delle basi scientifiche che però non abbiamo adesso e quindi stiamo creando una teoria su qualcosa che potrebbe essere così eh ma questo è problematico perché effettivamente sembrerebbe proprio andare contro il suo principio infatti nei lavori successivi l'idea che il la proposizione la un'espressione proposizione elementare semplice indichi un nome che indica appunto un oggetto semplice verrà verrà vedremo che nelle ricerche filosofiche questo verrà verrà rigettato la funzione della proposizione verrà legato cioè il significato della proposizione verrà legata all'uso stesso della proposizione e proprio per questo cioè quindi ci sono proprio delle diciamo delle contraddizioni che lui nota all'interno del suo pensiero e diciamo con il suo modo un po anche impulsivo com'è questa cosa non gli da pace e ci lavora ci rilavora lo fa vedere a dei filosofi anche per questo dice no in realtà i neopositivisti non è che l'hanno capito tanto bene quello quello che volevo dire cioè è un po più complessa la situazione Russell e Frege Frege non ci ha capito niente lo scriverai in una lettera non ci ha proprio capito niente Russell sì ma anche lui va un po fuori l'unico che mi ha capito dirà proprio è Ramsey perché mi ha capito nel senso che mi ha criticato fortissimo le sue critiche sono forti e io non posso far finta che non ci sono queste critiche e ne dovrò tener conto nei lavori successivi e quindi inizia quest'opera di rielaborazione continua del tractatus delle sue idee lo porta avanti e ora io vorrei più che entrare proprio nelle ricerche filosofiche in maniera complessa perché già capisco che il tractatus a livello almeno logico è un pochettino è un pochettino intrecciato vorrei dare una visione anche in questo caso di quelle che sono le ricerche filosofiche sono andato un po' troppo avanti fatto un po' di spoiler attraverso una lettura di alcuni proprio dei passi delle sue ricerche in realtà la prima sta nelle osservazioni filosofiche che è sempre un dattilo scritto che pubblica non pubblica ma scrive successivamente al tractatus negli anni successivi già appunto già diciamo il tractatus è pubblicato nel 22 già lui dal 23 al 30 rielaborava tutto il suo pensiero quindi e già in realtà sappiamo che alcuni spunti sull'uso del linguaggio stanno all'interno di quelli che sono i quaderni che scrive contemporaneamente quasi al tractatus e lui scrive nelle ricerche filosofiche tanto per farvi dare la proprio per darvi la sensazione della diversità che ha il linguaggio rispetto appunto al all'idea del tractatus come una città antica un labirinto di stradine e piazzuole di case vecchie e nuove di varie epoche il tutto il tutto circondato da una grande quantità di settori moderni con strade rette e regolari e case moderne questo lui dice è quello che io percepisco dal linguaggio in poche parole lui pensa a una all'uso di una parola del linguaggio noi dicevamo no prima che nel tractatus la proposizione semplice è il nome dell'oggetto e l'unico significato di questa proposizione è l'oggetto semplice a cui si riferisce bene invece questo è quello che lui pensa del di un nome per esempio nelle ricerche filosofiche penso agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili c'è un martello una telagna una sega un cacciavito un metro un pentolino per la colla la colla chiodi e vite quanti differenti sono le funzioni di questi oggetti tanto differenti sono le funzioni delle parole naturalmente quello che ci confonde perché attenzione la confusione del linguaggio un tema di fondo per tutta la filosofia di Wittgenstein quindi non è che la critica ha i modi confusi con cui si utilizza la logica il linguaggio si ferma al tractatus ma in realtà è presente anche nelle ricerche è la soluzione che trova che è diversa naturalmente quello che ci confonde è l'uniformità nel modo di presentarsi delle parole che ci vengono dette o che troviamo scritte stampate infatti il loro impiego non ci sta davanti in modo altrettanto evidente specialmente non quando facciamo filosofia quindi anche qui attenzione alla filosofia anche qui alla metafisica all'etica sì nella secondo vid che sta in sé ne può parlare di questi temi però attenzione al contesto in cui ne parliamo ma quanti tipi di proposizioni ci sono innumerevoli innumerevoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo segni parole proposizioni e questa moltiplicità non è qualcosa di fisso di dato una volta per tutte ma nuovi tipi di linguaggio nuovi giochi linguistici come potremmo chiamarli sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati adesso io avevo anche trovato un'altra parte da aggiungere a questo che gli dà ancora per me ancora più più forza però ve la leggo direttamente dal testo perché non l'ho inserita nella diapositiva allora quando appunto wid che sta nella seconda parte della sua filosofia parla di gioco linguistico e diciamo lui si vuole riferire appunto alla pluralità di usi del linguaggio e come sappiamo ogni gioco come quelli che sono i giochi reali che noi facciamo che ne so gli scacchi eccetera il della palla per esempio c'è un conto è che io gioco con una palla giocare e faccio calcio un conto che faccio pallavolo un conto che faccio futbol e nel futbol americano la palla è diversa però comunque sempre una palla c'è però il gioco che cambia il contesto sono le regole all'interno del calcio che cambiano un martello l'esempio qui della cassetta degli atrezzi e il martello lo posso utilizzare per mettere sui chiodi che c'ho nella cassetta degli atrezzi lo posso utilizzare per colpire una persona e quindi difendermi lo posso utilizzare per una svaria un enorme varietà di usi e sempre però martello rimane non è che il martello se lo uso per colpire una persona allora non è più un martello non c'è un'altra cosa no sempre un martello è io sto cambiando il il contesto in cui utilizzo la parola io mi sto spostando da un gioco a un altro lui cosa dice lui scrive sì però certe cose noi le chiamiamo giochi e certe altre no certe cose regole e certe altre no ma questo non ha nessuna importanza per la delimitazione di tutto ciò che noi chiamiamo gioco di contro tutto il resto i giochi sono per noi i giochi di cui abbiamo sentito parlare che possiamo enumerare e forse altri costruiti di bel nuovo quindi noi possiamo anche costruire giochi linguistici dove utilizziamo il linguaggio e li possiamo costruire in analogia con i già con i giochi che già conosciamo cioè io chiamo gioco la scacchiera un gioco di scacchi in analogia con altre cose che io interpreto come gioco di così no anche questo un gioco però io non è che devo dire devo dare una definizione appunto logica strutturata di quello che è gioco pertanto chiamo gioco ciò che sta in questa lista e così pure ciò che è simile a questi giochi fino ad un certo grado e lui sottolinea qui che non ho ancora non l'ho determinato il grado con l'esattezza in realtà lui su questo lavorerà diciamo per determinare il grado su cui all'interno del quale qualcosa è effettivamente un gioco linguistico e qualcos'altro no però non risulta non troverà mai una soluzione definitiva per il re per il resto mi riservo di decidere caso per caso se annoverare o no una certa cosa tra i giochi cosa sta dicendo qui che sta dicendo che effettivamente effettivamente quello che sta dicendo è che io non trovo io non voglio più non sto cercando l'essenza universale del linguaggio e quindi la definizione proprio esatta di quello che è un termine semplice del linguaggio a corrisponde esattamente il linguaggio è aperto alla pluralità dei contesti è aperto agli usi è aperto a agli usi all'interno dei contesti che hanno delle regole e io quindi posso parlare di dio non è che se parlo di dio non ha senso però attenzione se io parlo di dio all'interno di un dibattito teologico ha senso parlare di dio se io parlo di dio mentre faccio una dimostrazione matematica e scrivo che a segue da b perché dio vuole così lì dio non in realtà il senso non ce l'ha più perché io sto uscendo da quelle che sono le regole del mio gioco e quindi esattamente il linguaggio assume proprio una funzione assume diciamo una funzione plurale ok il linguaggio è qualcosa di plurale non rappresenta più il fatto stesso ma rappresenta delle forme quelle appunto delle delle forme di vita infatti lui parlerà di forme di vita e e quindi niente calando il linguaggio e le regole nel contesto noi potremmo parlare effettivamente anche di cose che prima lo stesso di gestante diceva noi non ne possiamo mai parlare una cosa importante da capire qua è che in realtà il linguaggio e la filosofia soprattutto la filosofia continua a rimanere un'attività non è che la filosofia non sia più un'attività prima era un'attività critica logica adesso è una attività che analizza le varie forme linguistiche le regole e in realtà può essere vista molti parlano appunto della della filosofia del secondo Wittgenstein come diciamo terapia la terapia non è più una terapia diciamo di purezza della della lingua e quindi determinare ciò che può essere effettivamente una proposizione scientifica e quella che invece qui è una terapia nel senso che accorgendoci di questi usi di queste regole nel nell'attività di un linguaggio un linguaggio che è sempre pubblico noi ci accorgiamo anche quando invece pensiamo proprio il contrario ovvero che no questa cosa necessariamente deve essere così perché nel linguaggio ciò si dà in un modo necessario e unico no lui dice attenzione guardiamo la regola guardiamo il contesto e vediamo effettivamente quello che appunto e liberiamoci da queste diciamo queste catene determinatezza di sensazione che nel mondo ci sia appunto qualcosa di necessario che c'è una corrispondenza necessaria fra una cosa che dico il mio è il mio linguaggio quindi il linguaggio compare appunto come questa città ha più strati parti più moderne parti più vecchie e così via e il criterio di significanza ovvero per il linguaggio deve avere un significato rimane appunto nel fatto del rispettare le regole del gioco linguistico nel quale ci troviamo all'interno dei nostri linguaggi quindi la terapia diventa appunto una terapia nel senso di rispetto di queste regole abbiamo tantissimi tavoli da gioco abbiamo il tavolo da gioco della psicologia della democrazia della sociologia della teologia e così via e naturalmente il linguaggio da ciò esiste soltanto come un'attività pubblica un linguaggio privato è un linguaggio che non è che non può esistere perché non è calato in un contesto e non è calato da nessuna parte cioè non è che un linguaggio che è soltanto mio e allora c'ha regole no perché le regole derivano appunto dal contesto dall'uso che ne facciamo del linguaggio e se non lo usiamo ovvero non lo usiamo come cosa pubblica il linguaggio si ferma io penso che sto sforando l'ultima proprio slide che vi volevo far vedere questa perché so appunto c'è sempre l'idea quanti Wittgenstein 1 2 3 4 abbiamo visto che effettivamente ci sono delle diciamo appunto dei punti di conflitto fra il primo e il secondo Wittgenstein punti profondi e naturalmente questi punti di conflitto sono proprio sono innegabili nessuno direbbe mai che è no la filosofia del primo Wittgenstein può essere interpretata come la filosofia dello stesso del secondo Wittgenstein allo stesso modo ma ci sono delle continuità tematiche queste continuità tematiche sono dovute anche appunto al fatto che Wittgenstein utilizza i suoi lavori in maniera di continua critica e le continuità tematiche ecco io qui non ho riportato alcune non ci sono necessità abbiamo detto nel mondo le necessità sono solo nel linguaggio e da questi due corollari che la logica si mostra e deve curarsi soltanto di se stessa perché se noi volessimo dare una descrizione quello spiegare proprio la logica dovremmo utilizzare un linguaggio che ha fuori della logica che ha senso e che parla della logica quello che viene chiamato meta linguaggio ma per dar senso a questo linguaggio dovremmo utilizzare un meta meta linguaggio che e così via insomma sarebbe una una missione impossibile la scena la filosofia non è una scienza e non è una dottrina e questo è anche uno dei motivi del fatto che non è una dottrina il fatto che il tractatus ha dei problemi perché a Wittgenstein a un certo punto quello che scriveva nel trattato si è sembrato essere una dottrina e invece questo un tema che rimarrà di fondo sempre in Wittgenstein non dobbiamo riformulare il linguaggio Wittgenstein dirà spesso sia nel tractatus che nei testi successivi che in realtà il linguaggio che abbia non è che dobbiamo creare un linguaggio artificiale come diciamo alla frega della RAS che mostra la forma vera del linguaggio il linguaggio va bene però noi dobbiamo comprendere come funziona per non fa appunto casino fra quello che invece è ciò che pensiamo il linguaggio possa dire su quei limiti invece del linguaggio stesso la naturalmente la trasparenza semantica non è che viene mia meno nel secondo Wittgenstein e nulla di ciò che è necessario può comprendere a comprendere il linguaggio può essere dato fuori dal linguaggio questo è un pochettino legato anche al fatto che della logica all'interno del linguaggio si mostra e parla a se stessa perché se noi avessimo bisogno di qualcosa per comprendere una proposizione del linguaggio beh questo significa che o la proposizione in realtà è insensata o io ho trovato un altro linguaggio un metalinguaggio che può parlare di quel linguaggio ma lo stesso problema ce l'ho sempre nel metalinguaggio e quindi il risultato non cambia e questa è un'idea che rimane anche nelle ricerche filosofiche in realtà naturalmente ci avrà Wittgenstein avrà approcci differenti a queste idee ma non toglie che le idee rimangono e sempre ecco il 6 l'uso di un'espressione linguistica mostra il suo significato si richiama sempre all'altro e il significato il ruolo semantico di un segno prima nel tractatus era l'uso munito di senso che abbiamo già detto e il significato invece nelle osservazioni filosofiche nelle ricerche diventa proprio l'uso stesso che ne facciamo che quindi naturalmente come tema di fondo lascia sempre il fatto che l'espressione linguistica sia che sia per l'uso sia che sia per l'uso munito di senso mostra sempre il suo significato detto ciò io ho concluso lascio velocemente dei consigli per per la lettura quindi io non ho nessun rapporto particolare con queste persone anche perché alcuni sono dei testi degli anni 80 quindi non ero nemmeno nato e semplicemente li ho trovati molto molto interessanti a livello di analisi critica di Wittgenstein analisi del pensiero introduzione al pensiero di Wittgenstein sono dei testi che io sinceramente proporrei anche a chi appunto di filosofia è particolarmente strano soprattutto per Isinotto introduzione a Wittgenstein non è per niente complesso Guida Wittgenstein di Marconi che fra l'altro è anche quello che io ho usato per per alcune parti di questa presentazione è un testo molto completo che però già inizia a fare delle analisi più approfondite e quindi va benissimo mentre per quanto riguarda nei testi diciamo italiane diciamo le traduzioni italiane dei testi dei testi dell'autore tutte le traduzioni che ha fatto in Audi effettivamente sono traduzioni ottime e sono molto molto chiari sono testi piccoli e quindi in Audi lascia diciamo offre un'ottima scelta detto ciò io ragazzi ho concluso grazie a tutti per per l'ascolto e adesso se non so qualche domanda così io intanto interrompo la condivisione allora mi faccio portavoce Fede mi faccio portavoce di una domanda da parte della chat che secondo me è pertinente perché si aggancia al discorso di Wittgenstein e poi è un problema secondo me di antica data della filosofia forse dai tempi veramente dei sofisti Platone Aristotele e via dicendo e viene chiesto no dalla signora Maria Gabriella Ballarini dice quindi non esisterebbe un sapere universale per Wittgenstein in generale un sapere allora io mi verrebbe da dire che dal punto di vista di Wittgenstein un sapere universale non esisterebbe perché quello che lui ritiene che sia appunto il sapere almeno soprattutto nel primo Wittgenstein ma anche nel secondo in realtà non è che cambia proprio l'idea diciamo è proprio quello che offre la scienza le proposizioni munite di senso quelle scientifiche sono il sapere ma lui è ben consapevole che in realtà quello della scienza è un sapere che è in continuo aggiornamento perché se lui dicesse sì esiste un sapere universale qualcuno mi potrebbe chiedere ok quindi qual è il fondamento di questo sapere universale allora dovrebbe rispondere al fatto del per esempio le proposizioni semplici sono queste e quindi si ritroverebbe un pochettino nel casino di prima e un'altra cosa che aggiungo brevemente per Wittgenstein non esiste un linguaggio universale anche nel Tractatus lui lo scriverà benissimo tutti no lui scrive nel Tractatus proprio che i nostri linguaggi in realtà vanno bene così come sono cioè lui non vuole creare un linguaggio artificiale universale che mostri sempre la struttura lui dice guardiamo appunto il linguaggio e come funziona non cerchiamo un linguaggio universale certo beh Fede te volevo dire e dico anche a tutti gli altri insomma filosoficamente parlando si mantiene socratico nel senso che è sempre aperto è sempre in costante ricerca insomma Wittgenstein da questo punto di vista sì soprattutto nella sua storia della diciamo proprio il suo vissuto è molto invece una cosa di interesse diciamo storico e non solo però ecco come ha influito la guerra l'esperienza della prima guerra mondiale nella poi stesura del Tractatus perché comunque è un'esperienza rilevante quella del primo conflitto mondiale assolutamente e allora sicuramente quello che quello che intende lascia intendere Wittgenstein Wittgenstein una volta presentato il Tractatus a un suo editore dicendo che era un'opera etica addirittura adesso se questo è dovuto al fatto che effettivamente cercava qualcuno che lo pubblicasse quindi voleva oppure no sicuramente c'è una parte dell'etica nel Tractatus c'è una parte della morale di morale che però diciamo prese senza tutto il background sulla logica il linguaggio che c'è prima mancano di significato quello che vuole dire è quello che ha vissuto lui durante la guerra legge Tolstoi, legge Dostoievski, legge Nietzsche quindi comunque si fa delle letture abbastanza impegnative ecco e quello che vive nella guerra per me l'hanno portato poi a dire nel Tractatus stesso che per quanto lui abbia risolto i problemi lui ci tiene a sottolineare che i problemi della vita in questo Tractatus non sono nemmeno stati trattati questo quello che vuole dire è proprio questo questa è la sensazione che Dada dice sì io adesso ho spiegato qual è il linguaggio munito del senso, la scienza eccetera però quelli che sono appunto i problemi della morale qui in realtà non li ho trattati addirittura il linguaggio non li può trattare ma sono problemi della vita per questo che dico che non è che sono sbagliate le domande non sono domande sbagliate poi magari non ha senso come si rispondono però sono problemi veri e sicuramente la percezione di questi problemi veri a una persona che ha vissuto la guerra non è che è sicuramente ha influito assolutamente grazie, grazie allora insomma per queste due risposte hai chiuso con un felice connubio insomma un'unione anche di queste due sorelle queste due forme di filosofia la logica e poi anche l'etica che è presente entrambi in Wiktestein io a questo punto allora darei la parola a Lanfranco per i saluti grazie a tutti